ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi come avete potuto leggere dal titolo faccio vedere un'altra parte della makeup collection ovvero i correttori e oggi voglio anche fare un po di decluttering dei correttori che non uso più il primo che voglio dare è questo qui verde della prestige che è il numero il perfect skin ed è appunto nella colorazione verde allora lo voglio dare cioè non so se proprio lo voglio buttare oppure lo regalo a qualcuno perché a parte che io non lo uso è stato pochissime volte che l'ho usato per cercare di correggere un po i rossori però mi secca un po è vero che ho la pelle mista secca mista tendente al secco però forse anche per questo non lo so però poi non correggio quindi prende inutile che che lo tengo che sì che lo tengo tanto manco lo uso quindi penso che lo regalerò a qualcuno qualcuno che ha la pelle tra normale e grassa comunque poi un altro correttore che è quasi finito e prende finito si vede qui ed è questo della della clinic ed è il numero 03 moderately fair che in realtà questo non era mio perché questo me l'ha dato una mia amica che suo decluttering era un prodotto del suo decluttering e l'ha dato a me però cioè questo mi è piaciuto perché si copre non tanto però copre quindi mi piace poi ti devo vedere chi dove lo posso comprare perché lo voglio quindi questo lo declattro nel senso che lo butto perché tanto è finito poi due che mi faccio che presto ricomprerò perché coprono coprono la qualunque sono questi qua della kiko della full coverage full coverage consider questo è nella colorazione 03 e infatti sta anche finendo anche perché io ce l'ho non so da quanti anni quindi ed è il correttore che ho usato oggi praticamente io questi correttori li amo li amo perché mi coprono l'acqua non è finito che questo è il correttore che mi ha mai peccato che c'è stato scuro se non lo potevo usare per questo cosa qua sto bomboname qui come direbbe Miriam Maddili chicca il bomboname questo è il numero 01 che è molto più chiaro ovviamente e questo ovviamente lo uso per per illuminare e ha fatto il bocchino o lo uso per illuminare oppure quando mi va per andare a definire un po le sopracciglia questi due modi li uso oppure questo mi piace veramente tanto un altro che mi piace anche se non lo uso quasi mai cioè lo uso in combo con questo ed è questo qua del live no del live rocci no cos'è dell'afon deve dovrebbe essere comunque questo qui eccomi qui scusate mi devo andare a soffiare il naso questo qui che è la corazione fair la metto così si vedete non si vede ed è ovviamente stick anche questo qua mi piace però allora vi spiego una cosa io ho il contorno occhi molto secco quindi qualsiasi correttore anche il più buono anche se non so quello la di anche se compro compro per esempio con la di wuda beauty che si dice che sia ottimo anche quello mi farà le pieghette non ho capito perché sì ho capito perché avendo un quel contorno occhi secco e segnato con qualche pieghetta quindi si va ad evidenziare però questo e mi si evidenzia molto con questi due di paola p che sono il numero 01 e questo dovrebbe essere il numero 03 per essere andato a farsi friggere allora questi credivo che essendo liquidi fossero adatti per il mio contorno occhi ripeto molto secco però non è così perché nonostante io il contorno occhi lo idrati molto specialmente anche prima di truccarmi e io la base la faccio molto tempo dopo aver fatto gli occhi quindi il contorno occhi si è benché assorbito penso non c'è niente questo però mi fanno tutte le pieghette per quanto riguarda la coprenza media il medio sì il medio e ho anche le scorte però queste colorazioni diverse perché una c'è una è sempre la numero 01 e l'altra scusate perdonatemi il telefono allora dicevo ho preso della colorazione più scura ho preso un altro colore invece quella più chiara è sempre la 01 perché aspetto di finire questi qua per poi iniziare questi ora questo non so di colorazione è ok questa è la colorazione 04 infatti si vede che molto molto arancione molto ora me ne sto rendendo conto che ho preso la colazione mamma mia oh mio dio vabbè penso che vada bene per l'occhiaia e questo qui ovviamente la numero 01 non so perché sapete che faccio io tolgo queste queste scatole di m e fatto poi un altro correttore che però uso o come base come diciamo come primer oppure quando voglio fare provo a fare la cat crease e questo qui della catrice il camouflage cream e il mio è nella colorazione colorazione 4 non so e quella colorazione è giallino più o meno questo proprio mi secca la palpebra in una maniera si raggrinzisce non so se si dice così però però visto che una mia amica me l'ha dato perché per lei era troppo chiaro quando le mie amiche mi danno i trucchi che vuol dire non sono la colorazione per loro oppure non lo usano più e questo sì cioè mi piace per fare la cat crease è ottimo poi un altro che non ho ancora usato però dovrei usare penso che userò per i viaggi perché io ho deciso mi sono fatta però una lista una no una lista però sì una lista diciamo una lista no una lista no come si dice un programma in cui ogni volta che devo fare un viaggio mi porto i prodotti della NYX oppure i prodotti della NYX quella che in mini size eccetera e questo qua infatti è un correttore della NYX dell'HD Studio Photogenic che tra l'altro è uscita la versione quella è uguale al fondotinta quello l'audio come si chiama One Can Stop One Stop una cosa del genere è uscito pure il correttore e la e il fondotinta in polvere sarebbe i prodotti non li comprerò mai mai e poi mai allora di questo correttore allora io l'ho provato nel giorno di Natale quando appunto l'ho ricevuto e ho provato avevo dei segnetti sulle braccia ho provato a vedere se copriva non copre cioè a parte che si è seccato subito cioè che poi dopo sono andata a struccarmi a togliere il prodotto dal braccio non si toglieva quindi dovrebbe essere ottimo per il fatto che non si sposta manca a morire però non copre cioè a me il segnetto non l'ha coperto cioè avevo un rossore adesso non mi ricordo cosa ho coperto qualcosa qua sulle braccia ho coperto per vedere la coprenza quindi però lo devo provare sperando che non si sia si è andata no si è andata male cioè perché allora io l'ho l'ho aperto è proprio il 25 dicembre ed è è passato un mese e da un mese non l'ho usato l'ho soltanto sbocciato mai più però soltanto io faccio questi guai e nulla spero che questo video vi sia piaciuto oppure vi faccio vedere anche il fondotinta no il fondotinta la prossima volta che c'è molto da parlare sono anche tanti spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate un bel like spolliciate alzate i pollici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina vicino al tasto iscriviti così quando quando farò un video vi arriverà una notifica che lo potete vedere per favore fatelo se mi volete bene fate questa opera di carità condividete commentate soprattutto voglio tanti commenti e mettete like se volete il continuo ovvero quello dei fondotinta e poi quello delle cipre e di altri prodotti e nulla alla prossima mua mua no 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 Grazie.